Si sarebbe vista negare la comunione perché è arrivata in ritardo alla messa, questo quanto ci ha raccontato una fedele, un episodio che ha creato qualche attimo di tensione in chiesa alla vigilia di Natale. Sarebbe successo in una delle parrocchie più popolose della città, quella di Gesù Cristo Divino Lavoratore Sant'Egidio, nel quartiere dell'Orciolaia, a denunciare quanto accaduto una parrocchiana che abbiamo incontrato fuori dalla chiesa. La donna ci ha raccontato di essere entrata con qualche minuto di ritardo durante la prima lettura e di essersi seduta nelle file in fondo per non dar fastidio. Il sacerdote Don Danilo Costantino, da pochi mesi insediato nel ruolo di parroco, le avrebbe negato l'ossia proprio perché arrivate in ritardo. Mi ha rovinato la vigilia, chiosa, delusa la donna. Qualche problema sembra che ci sia, se non altro perché abituati in un certo modo dai vecchi parrocchi, oggi il nuovo parroco sta dando dei indirizzi diversi. Nell'episodio è stato già informato anche il Vescovo Andrea Migliavacca. È una cosa che non va bene, il Vescovo lo sa, glielo ho comunicato. Io so, quella volta l'ha fatto sicuramente, però dopo... Che ne pensa lei? Che siamo la frutta. Vescovo Andrea, lei è stato informato di quello che è accaduto nella parrocchia dell'Urcelaia? Diciamo che io non sono semplicemente stato informato, ma per approfondire ho parlato con Don Danilo. E io faccio queste considerazioni. Anzitutto mi spiace per tutta la situazione che si è creata e anche per chi eventualmente non si fosse sentito accolto. La questione forse è legata a una situazione particolare per come l'ha valutata lui, quindi non da estendere a un modo di fare, perché già in un dialogo e in un cammino precedente con Don Danilo si è valutato e sottolineato questa importanza di accoglienza alle persone e della comunione che va data a coloro che vanno a chiederla e a riceverla.